Un punto carine della OOP è il rinforzo, dicevo qualche minuto fa, dell'information hiding, cioè della possibilità di nascondere all'utente, qui sono io stesso utente della mia classe, sto nascondendo al codice che utilizza oggetti di classe prodotto i dettagli interni implementativi, qua potrei avere migliaia di variabili, centinaia di funzioni, No, io per utilizzare in modo efficace una certa classe devo esporre all'utente, rendere visibile all'utente, soltanto è un gruppo ristretto di pochi e semplici comandi per poter pilotare quel tipo di oggetto, altrimenti vuol dire che la classe sarebbe troppo complicata e nessuno andrebbe ad usarla E per renderla sicura sono stati introdotti, per rendere effettivo questo information hiding, che cosa? Dei modificatori d'accesso, degli specificatori di livelli d'accesso, come questo private e questo public Private, individua un blocco di variabili, notate come non sia necessario ripetere private, potrei farlo, è private, do loro nome, punte virgola, private, do loro prezzo, punte virgola, no, posso raggruppare usando semplicemente la virgola Variabili, dicevo, che non saranno utilizzabili dall'esterno della classe, cosa vuol dire? Vuol dire che un tentativo, un qualunque tentativo qua, di andare a pasticciare con variabili cui probabilmente utenti non siamo consapevoli della portata di questa modifica Non possiamo scrivere qualcosa del tipo, dollaro, prodotto, tentare di accedere, notate che l'unica cosa che appare è stampa, perché è l'unica pubblica, public Non posso pasticciare con il nome e assegnare quello che voglio, senza nessun controllo da parte dei metodi della classe, come vedremo tra un po' Che cosa otteniamo come risultato per questo tentativo? Ecco, mi spiace bimbo, cannot access private property prodotto, è privata, non puoi andare a modificare, neanche a leggere semplicemente il suo valore Devi farlo tramite un metodo che è appunto questa, ad esempio questa public, questa sì che può essere chiamata dall'esterno, function stampa Magari la function stampa, fosse questo un saldo di un conto corrente, potrebbe andare a fare un controllo se l'utente in questo momento è autenticato O chiedere una password, capite la grossa differenza Oppure una funzione che va a modificare, operazione molto più pericolosa, il valore di una variabile potrebbe in automatico andarne a chiamare delle altre Ad esempio, fosse una classe che descrive una classe, un gioco di parole, una classe di personaggio di un gioco di ruolo Uno stregone, un titano, sto pensando a destino ovviamente O un personaggio come Salvador, come Maya, questa volta sto parlando di Borderlands E ci fosse una variabile che descrive il livello di vita, health Probabilmente cambiando quello dovremmo andare ad aggiornare qualche cosa sullo schermo, la barra della salute Ma se io lasciassi quella variabile, salute, direttamente accessibile E qualcuno dall'esterno potesse comandarmi, ah a salute metti 100% Poi lui potrebbe dimenticarsi di chiamare il comando che aggiorna la barra grafica sul video, giusto? Questo invece rendere privata quella variabile consentirebbe poi di costringere l'utente di quel tipo di personaggio nel gioco A chiamare il metodo aumenta diminuisci salute E il metodo, fatti debiti controlli, potrà anche in automatico fare altre cose Come chiamare le routine grafiche che andranno ad aggiornare la barra della salute sullo schermo Sta tutta qui la differenza Ne deriva una fondamentale regola d'oro Tutte le variabili dovrebbero essere private Sì, magari al volo una potrebbe essere dichiarata public per fare una prova rapida Ma attenzione, non peccate di pigrizia Perché prima o poi, se una variabile è accessibile liberamente Vi causerà un problema, non è un se, è solo un quando I metodi, cioè le funzioni Questi non sono obbligatoriamente da dichiarare con public Se devono essere tali Si può anche semplicemente scrivere function stampa E automaticamente, ma solo per i metodi, non per le variabili Per le variabili dovete sempre dire è private o public Per i metodi di default il livello di accessibilità è public Però, di nuovo, perché non rendere chiaro chi sta usando il nostro codice Che non è una dimenticanza Che veramente per noi questa function stampa deve essere public Altrimenti il dubbio potrebbe sorgere Ma si sarà dimenticato di mettere private? Chissà No, chiariamolo Ultimo particolare è questo this Ecco qua, si paga il prezzo che PHP non è nato con la OP incorporata nel suo progetto A differenza di linguaggi come Java E per cui qualche aggiustamento tecnico è necessario Non è possibile come in altri linguaggi come C++, Java, stavo dicendo, o anche C Sharp Semplicemente scrivere qui qualcosa tipo dollaro nome Perché l'interpolazione non funzionerebbe Per accedere in un metodo ad una delle variabili del stato interno Dobbiamo utilizzare la variabile speciale this Che è letteralmente un puntatore Contiene l'indirizzo di dove nella RAM si trovano queste variabili This vuol dire di questo stesso oggetto per cui tu stai chiamando questo metodo stampa Usa la variabile nello stato interno il cui identificatore è nome Occhio che non ci vuole il dollaro Semplicemente così, dollar this, nome E non è semplicemente quando vogliamo fare l'interpolazione all'interno di una stringa No, no, anche l'uso diretto porterebbe a questo errore Cannot asex, eccetera, eccetera E questo, lo so, ha risultato un po' strano a chi proviene come background, ad esempio, dal C++ Dove lì, invece, sì, c'è la possibilità di usare il this con uno scopo un po' più forte Ma non c'è nessun problema per un metodo di una classe Di utilizzare direttamente l'identificatore della variabile dello stato interno Tra parentesi, in PHP è più facile che si riferisca alle variabili dello stato interno come alle property Che comunque è un termine largamente usato in generale nella OP Quindi la property, la property dollaro nome, la property dollaro prezzo e così via Dunque, in chiusura vi chiedo di aggiungere nello stato interno questa variabile Che nelle mie intenzioni contiene la data di scadenza del prezzo proposto Quindi questo prezzo sarà valido fino al giorno meseano E è collegata a questa la variabile dollaro prezzo bloccato, un boolean true Mi indica se il prezzo attualmente memorizzato può o no essere modificato Qui penso che sia evidente che anche la sola lettura, cioè chiedere l'estrazione del valore del prezzo Da un oggetto tipo occhiali, sia soggetto a un controllo Perché è inutile, anzi dannoso, fornire all'esterno il valore 12.5 Se scopro che è già passata la data di validità Ecco, quel prezzo potrebbe non essere più veritiero, più valido Anche per la modifica E se il prezzo fosse bloccato, vuol dire no Finché non lo sblocco, non puoi cambiarlo, deve rimanere 12.5 Ma ho più volte ribadito che anche se non vi fosse nessun controllo da compiere Per leggere o modificare il valore di una variabile Questa è meglio che rimanga privata Da cui discende la strappopolarità di questi metodi getter e setter Sono delle funzioni, dei metodi esattamente uguali agli altri Sono solo specifici proprio per andare a restituire, dopo eventuali controlli E a modificare, dopo eventuali controlli, il valore di una variabile Getter da to get prendere Quindi vuol dire che prendo dalla classe il valore di una certa variabile Set da, appunto, invece to set impostare Per modificare il valore di una variabile Vi lascio quindi come esercizio Poi questo però lo vediamo insieme all'inizio del prossimo video Che cosa? Proprio la scrittura di un metodo Chiamatelo uno get prezzo E l'altro set prezzo Che vanno a restituire e a modificare Ma tenendo conto di questo Se il prezzo non fosse più valido Il metodo dovrà restituire meno uno come valore E se invece il metodo set prezzo Si accorge di non poter fare la modifica richiesta al valore del prezzo Non farà semplicemente niente E non limitatevi alla sola scrittura di questi metodi E di eventuali altre funzioncine di supporto Fate poi qualche prova Naturalmente dopo aver creato un prodotto Come abbiamo fatto qua sotto Vi do un aiutino Sperimentate con questa funzione predefinita built in Sulle date Che vi dà la data del giorno Con il formato specificato Dove D sta per giorno La M sta per mese La Y sta per year Ed è in maiuscolo Perché minuscolo mi darebbe Soltanto le ultime due cifre Di 2016 mi darebbe solo il 16 Lo vediamo adesso Otteniamo La data Odierna per intero E quindi questo è un suggerimento Su come fare il controllo Sulla validità Del prezzo 31.12 1 luglio Vi dico subito però Che questo piccolo suggerimento È invece anche una grossa carognata Perché trattare la data Memorizzata in questo modo Non rende banale Sapete capire quando una è maggiore O minore di un'altra E però È un ottimo esercizio Se non ce la fate Cercate Perché qua potete cambiare anche l'ordine Sapete Di riorganizzare Il formato per la data In modo tale Da rendere banale Il confronto Tra due date Appunto A risentirci Grazie Grazie